Il comparto agricolo campano rappresenta il velo volano di sviluppo se lo sappiamo utilizzare bene di questa regione, la nostra grande scommessa, perché l'agroalimentare e l'industria rappresentano per noi un elemento importantissimo. Basti pensare alla mozzarella di bufala, basta pensare alla quarta gamma nella piana del Sela, ma anche a tante piccole produzioni locali che rappresentano il pregio di una regione che ha una biodiversità importante, che garantisce una qualità e una salubrità dei nostri prodotti, come abbiamo dimostrato con Campania Trasparente e con gli studi fatti. Abbiamo sdoganato il cibo e abbiamo riattivato anche un meccanismo di economia. Dalle emergenze resta la brucellosi e la tubercolosi in alcune popolazioni bufaline della provincia di Caserta. È una scommessa ancora aperta, ma è evidente che se vogliamo avere un futuro ci dobbiamo liberare dalle malattie infettive, perché solo così si aggrediscono i mercati internazionali e si affronta tutto il pregio di una produzione che deve essere scevra da una difficoltà come quella di una malattia infettiva.